Buonasera a tutti e bentornati al TG di AC Milan Inside. Pavlovich è ufficialmente arrivato a casa Milan per firmare il suo contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni e ha scelto il numero di maglia 31. Daniel Maldini è ufficialmente un giocatore del Monza e sembra dunque definitivamente essere terminata l'era dei Maldini. Voi che cosa ne pensate di questa scelta della società? Siete d'accordo? Il Milan sembra propenso a prendere come terzo attaccante Abraham della Roma. Il calciatore inglese sembra abbia dato la disponibilità al trasferimento al club milanese da già qualche settimana. Ancora non è stato trovato nessun accordo ma in caso di successo Luka Jovic potrebbe partire. Alle 2.30 di stanotte si terrà la seconda amichevole americana tra Milan e Real Madrid. Sarà trasmessa in diretta televisiva e anche su Dazon. Dopo l'infortunio di Marcos Portiello alla mano il Milan sembra alla ricerca di un nuovo secondo portiere e il nome più gettonato è Scoffet del Cagliari. Per il giocatore si starebbe pensando a un prestito con diritto di discatto a 3 milioni. Noi logicamente vi terremo aggiornati per qualsiasi altra novità e mi raccomando voi però continuate a seguirci su tutti quanti i nostri social.